Musica Dopo l'analisi del voto delle provinciali, Massimo Romano di costruire democrazia pensa già alle regionali e chiede che si arrivi subito a definire programma, coalizione e leadership. E intanto i partiti continuano nell'analisi del voto, questa mattina è stata la volta di costruire democrazia che a Palazzo Magno ha eletto un consigliere e guarda già alle regionali. L'analisi del dopo voto delle provinciali di Campobasso, Massimo Romano, il risultato di costruire democrazia, lei lo ha ritenuto sorprendente e rivoluzionario, perché? Un risultato straordinario, oltre 6.000 cittadini di Campobasso hanno premiato costruire democrazia. Un risultato che si deve al fatto che condurre battaglie contro il sistema a viso aperto e con coraggio talvolta determina un isolamento all'interno del palazzo, ma uno straordinario consenso fuori dal palazzo da parte di migliaia di cittadini che hanno premiato da un lato, dove siamo all'opposizione come in regione al comune di Campobasso, la nostra opposizione seria e con la schiena dritta. Dall'altro, dove siamo maggioranza di governo, come nei comuni del Fortore, hanno premiato il buon governo. E in questo senso un grandissimo risultato va attribuito anche all'impegno di Micaela Fanelli, non soltanto come candidato presidente, ma anche come contributo alla lista di costruire democrazia. A proposito, lei ha anche lanciato la necessità in tempi rapidissimi per le regionali di programma, coalizione e leadership. Lancio un appello a tutte le forze politiche, ma soprattutto a tutti i cittadini. Non perdiamo tempo nelle stanze chiuse di partito. A partire dai referendum del giugno prossimo, costruiamo coalizione, programma e soprattutto leadership, perché Michele Iorio e il suo sistema di potere si possono battere, ma stando fuori dalle stanze chiuse e talvolta vuote dei partiti. Ecco, sulla questione dell'astenzionismo, 55%, ma schede valide, diciamo 48-47%. Proprio in questo senso, io credo che occorra una rivoluzione nella politica molisana e in particolare nel centro-sinistra. Una rivoluzione non si fa nelle stanze chiuse di partito, ma si fa nella società di fronte agli ospedali, di fronte alle fabbriche che chiudono, di fronte alle scuole pubbliche in crisi ed in difficoltà, ai terminal degli autobus, dove i pendolari subiscono tagli dei trasporti vergognosi e drammatici, e in particolare sul settore del sociale e della disoccupazione giovanile. Se noi saremo capaci di chiudere con le vecchie liturgie e di parlare il linguaggio che come Costruito Democrazia parliamo da anni nei confronti dei cittadini, sono sicuro che avremo un risultato ancora più sorprendente e ancora più rivoluzionario.